Per casualità, Genta raccoglie da terra una strana mappa contenente alcuni codici. Convinti che sia una mappa del tesoro, i giovani detective insieme a Conan iniziano la ricerca. Tuttavia, dei criminali li tengono d'occhio senza farsi notare. I bambini, dopo una lunga ricerca, trovano il tesoro, ma i valvimenti escono allo scoperto per prendere il bottino. Conan però architetta un piano per neutralizzarli e salvare gli amici. Grazie.